Mi chiamo Giorgia, ho 24 anni e sono una nuova agente della polizia locale di Milano. Sono cresciuta in una famiglia che da subito mi ha insegnato il valore dell'uniforme. Ho iniziato a 17 anni come volontaria sulle ambulanze di Milano e una volta uscito il bando di concorso ho deciso di parteciparvi. Lavoro presso il comando decentrato di zona 8 dove svolgo prevalentemente servizio in pattuglia sul territorio. Mi piace trovarmi ogni giorno ad affrontare qualcosa di nuovo, cosa che rende questo lavoro vario ed interessante. Non so come sarà il mio futuro ma so che questa è la strada giusta per me.